Il quartiere Ferrovia di Foggia è un luogo da difendere e valorizzare. Ritornano a chiedere a gran voce le tutele, gli amici del Viale, per la zona Ferrovia di Foggia. Lo hanno fatto nell'incontro dello scorso martedì a Palazzo di Città, durante il quale, ancora una volta, hanno chiesto e suggerito delle soluzioni per una civile vivibilità e convivenza all'interno del quartiere. Le criticità e le problematiche della zona Ferrovia, uno specchio di quello che accade in tutta la città, dicono gli amici del Viale, sono state in più occasioni esposte alle autorità competenti. Per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico da parte delle attività commerciali, si assiste al commercio abusivo di materiale variegato, di dubbi e provenienze ed una carenza igienica evidente, sia sui marciapiedi, sia sul manto stradale, per l'abbandono di rifiuti di ogni tipo e per lo sversamento della fognatura, un problema gravato dalle deezioni e rilascio di interiore e di animali. C'è un serio problema igienico-sanitario, rimarcano gli amici del Viale, che con l'approssimarsi dell'estate non può essere più rinviato. La recente raccolta differenziata dedicata alle attività commerciali non ha ancora fatto percepire miglioramenti in tema di igiene e salubrità. Proprio su questo tema, nei giorni scorsi, la Community Difendiamo il quartiere Ferrovia è intervenuta chiedendo l'intervento di vigili in borghese per emettere le multe a causa dell'abbandono eccessivo di rifiuti di ogni genere su marciapiedi e per strada. Ulteriore problema è rappresentato poi dalla circolazione in violazione alle regole. Molti residenti sono in carrozzella e non possono accedere ai marciapiedi, i cui scivoli sono costantemente occupati. Non può esserci integrazione, dicono gli amici del Viale, senza il rispetto delle regole più elementari. La legalità è alla base di ogni integrazione. La tecnologia da subito potrebbe essere un deterrente, dunque chiedono la riparazione delle telecamere esistenti in attesa della gara che poi avverrà. Una videosorveglianza attenta potrebbe sopperire all'assenza di agenti municipali in strada. Viale 24 maggio è un luogo di interesse storico della città che va riconosciuto e su cui investire invece di transennarlo sistematicamente come un ghetto ad ogni concerto e manifestazione culturale e sociale. Gli amici del Viale inoltre chiedono una zona traffico limitato che vada da via Podogora a via Piave, da via Sonzo a via Monfalcone, un presidio fisso della polizia locale in via Podogora per contrastare l'esposizione e la vendita di merce sui marciapiedi, un'ordinanza sindacale anti-bivacco con un relativo divieto di consumo di alcol in strada, un'ordinanza per il rispetto degli orari di esercizi e delle attività commerciali per garantire la quiete pubblica, l'isola pedonale dal sabato pomeriggio alla domenica sera sul Viale, l'eliminazione dei cassonetti dell'immondizia e il conferimento di rifiuti porta a porta da tenere all'interno delle attività commerciali.